dimmi che mi ami manco per il cazzo e volevi vuole guarda che faccia guarda che faccia chiederò a mj di scoparmi dalle questo è il cazzo che ci ho ben detto a me ascoltami ho ucciso tuo padre cos'è successo fra voi due la vendetta è come un anile che ti invade tutto ti trasforma in un cazzo reggevole questo costume da dove punta questa sostanza sembra essere sostanza amplifica l'aggressività ti trovo bene spider-man bello e sono preoccupata perché non mi serve il tuo aiuto a volte tutti hanno bisogno di aiuto peter perfino spazio che cosa c'è successo e non lo so ma devo fare in modo che finisca perché ho fatto cose terribili sos so che troverai il modo di rompere questa potrebbe essere la fine questa potrebbe essere questa potrebbe essere mi serve il tuo aiuto o tutto ciò che siamo stati non avrà più senso o tutto ciò che si tratta